On the way. tra virgolette più family relativa a quest'estate alla quale tenete molto? Sì, noi rilasceremo l'11 di luglio il film Luis e gli alieni finalmente prima di tutto un'offerta di una bellissima animazione durante i mesi estivi quindi questa è una richiesta che ci è arrivata dall'esercizio a gran voce per mantenere la stagione estiva il cartone animato è già uscito in Francia ha fatto un ottimo risultato effettivamente è un'avventura molto simpatica con tre alieni che vengono sulla terra in cerca, captano una televendita di un tappetino massaggiante e quindi fanno l'impossibile per venire sulla terra e acquistare questo massaggino questo tappeto massaggiante molto molto carino Luis è il protagonista maschile avventura racambolessa ma soprattutto molto divertente molto divertente invece noi passiamo a qualcosa di più torrido potete vedere che sulla giacca Umberto ha una stella rosa che in realtà rimanda all'orecchino di un'attrice Matilda Lutz che è un'attrice di titolo americana scoperta da Muccino in non mi ricordo più come si intitolava il film sull'estate ma insomma sicuramente ve lo ricorderete ma qui cambiamo completamente scenario Revenge, Coralie Fargea primo film, un revenge movie un thriller magnifico complimenti per esservelo accaparrato e quando uscite con questo film? Usciamo il 6 settembre è un film che abbiamo fortemente voluto perché narra un atto orribile come quello di uno stupro e di una vendetta della vittima però con la regia di una donna molto brava una regista secondo il mio punto di vista bravissima quindi con una visione completamente diversa rispetto ad altri film è un film pulp è un film che secondo il mio punto di vista rimarrà nella storia perché l'amante del genere thriller non necessariamente horror ma thriller amerà sicuramente questo film perché il film è realizzato molto bene ed è un film destinato ad avere secondo il nostro punto di vista un grosso successo noi ve lo auguriamo perché il film lo appoggeremo lo dico fin da subito L'estate addosso si chiamava il film che ha lanciato Matilda Lutz sempre andando un po' avanti e indietro per il vostro listino ci sarebbe un altro horror non avevo notato il nome del regista che sarebbe La casa delle bambole francamente non lo conosco però conosco Pasquale Logier che era un ex collega faceva il critico cinematografico una volta poi è stato il regista di Marty è un regista che comunque per l'horror francese ha avuto una grande importanza sì anche questo avrà una grande importanza perché è credo uno dei film più intensi coinvolgenti che abbia mai visto con un twist centrale tra i più importanti che abbia mai visto perché ci vuole un altro quarto di film per capirlo questo twist è un film molto intenso è un horror è assolutamente un horror assolutamente un horror il titolo originale è Incident in a Ghostland noi l'abbiamo tradotto come La casa delle bambole perché effettivamente tutto il film è ambientato all'interno di una casa delle bambole che le protagonisti femminili quando la vedono da fuori dicono questa sembra una casa di Rob Zombie quindi voglio dire ci sono anche citazioni un film molto intenso molto bello chiudiamo tornando ai cartoni animati quelli della mia generazione sentono dire scuola di Okuto e hanno un brivido state per uscire con una nuova avventura di Ken il Guerriero sì il 25 il 26 settembre usciremo con un evento nazionale di Okuto No Ken la scuola di Okuto in versione HD per la prima volta in versione HD e questo rientra in un accordo che abbiamo appena siglato con Yamato Video per una sessantina di licenze molto importanti classiche partendo da Goldrec a Gigorobo Lupin Lamu Olie Benji tutte destinate alla distribuzione teatrica? alcune di queste saranno destinate alla distribuzione teatrica tutte le altre verranno editate per la prima volta in Blu-ray in Italia tutta una serie di edizioni per collezionisti in fisico quindi non video ma per quanto riguarda Ken il Guerriero farete due giorni di uscita due giorni di uscita theatrical cinema HD e subito dopo uscirà il videogioco sempre distribuito da noi di Ken il Guerriero e durante il mese di ottobre tutte le edizioni a un video di Ken il Guerriero quindi diciamo che tra fine settembre e fine ottobre è il mese di Ken il Guerriero che è un grande classico è molto atteso dai fan sono già gasato grazie Umberto Bettini di Coach Media e in bocca al lupo per la presentazione del listino grazie wow grande questa cosa qui in quante sono